ma boh non lo so se qua nel locale non c'è non c'è problemi con laghe cioè lo stanno streamando pure nelle schermi di qua cosa sto facendo? hanno già iniziato la pagliacciata qua al circo si a me non lagga ma la smarted sei te quello che lagghi dai sei un Isis main lagoso no l'unico problema è che sia 30 fps ecco quello non ho idea del perché e non riusciamo a fixarlo però amen cioè ci accontenteremo qua un po' di foxlit però sarà più uno sfondo e una chiacchierata fammi cambiare questo astento di riuscire luce non ho mai giocato con luce eh sì sì giusto giusto ma in teoria dovrebbe essere più forte l'onc però non sai foxlit poi giocano spesso tra di loro così si si conoscono bene un po' quel che succede succede si da donato con mollica o senza Gabriele eh un po' tanto costa basta queste facce monche grande Gabriele l'altro appunto dopo questo stiamo cioè in realtà questo set lo stiamo mandando per dare un po' di tempo bura che ha appena finito di giocare a Ro sì le mandiamo solid bura ah allora ci sono delle preferenze allora eh lasciamo dargli un po' di tempo un po' di garantia all'amico no no ma infatti che vive vicino lì a Lombardia no 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 eh scherzo scherzo l'altro io non sono neanche affiliato con questo torneo sono sono solo un commentatore non so non ti ho non c'è niente no no si si sta si sta si sta si perchè è giusto si se no dai c'è tanto tanto il tempo ce l'abbiamo ma infatti noi manderemo loro e poi a questo punto la topotto dovrebbe essere la topotto dovrebbe essere Sere Tour contro chi vince tra loro due si sarebbe pure e noi due in Windows allora dobbiamo giocare noi prima prima di sere eh si perchè uno dei due avrà appena infatti mentre mi sa che faremo commentare a qualcun altro noi andremo un po' a scaldare questo è tosta questo è tosta eh come vogliamo fare per la topotto la topotto? la stiamo tutta top sei top sei? ok se no non ce la facciamo allora dopo noi giochiamo io e i Vandal dopo noi giochate voi due si ok dovrebbe intanto ah se hai già winner però hai già winner topotto eh top sei la top sei vuol dire che parti la top sei vuol dire che levi i primi due di solid 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 l'urlo richiamo messicano si è finissimo ciao ai figli ciao ricche vuoi andare qua si si c'è che dire grande solid molto gentile chiamate sole ma ti ha salutato poi torna sta gestendo le cose mi manca no non era una battuta eh anche se anche se poteva essere però non era sono sicuro che non fosse voluta la battuta eh sì eh sì eh no infatti il loser il loser il loser dovrebbe essere cat contro fumo forse secondo me si eh no non funziona così non è vero sono quattro ancora devono giocare ah no tu hai trovato la battuta e cherry e cat si mi sa che durante il loser semis cioè e lì e lì mentre facciamo winner semis intanto arriviamo al loser quarter si questi stanno giocando tutti inoltre allora così questi appena fate voi giocate subito e intanto noi stiamo slimmando è brutta questa eh eh sì è andata Team King finalmente ho fatto questo Team Globs oh bravo Felice eee 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 forza Napoli forza Napoli forza Napoli qualcuno fa schifo qua ma Fox ditto io ti ha fatto Felia e ha battuto Cats 3 a 1 e io con l'altro scorso torneo ci ho perso contro il suo pifo voglio dire eee 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 è guarita da Waller mi dà sei guarita da Waller dai eee 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 che vuoi fare tossico tossico game play sono abbiamo dei giocatori tossici qua eh sì ma ci sta sono amici la prima roba qua le facciamo giocatori slim si 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 tanto cos'è il felice fumo cioè mentre che gioca Ivan Gappie dall'altra l'altra minor eee tipo sarà Long contro Omeo si vince quindi si si che brava che brava c'è pure della violenza verbale qua dietro c'è pure della violenza verbale qua dietro Smarted chiede Lucy Smarted chiede Lucy Isis ok ok ehi c'è chi è Richard Monkey chi è Richard Monkey chi è Richard Monkey ciao Richard ciao 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 Richard eccoci il vero match up inizia adesso ma cosa stiamo vedando ti chiedono come stai ciao Ric tutto a posto tutto a posto tutto a posto tutto a posto è stato il fan chiede si è lui ma è andata si è andata si è andata si è andata ah? cosa? ah che show? questo è il vostro? si è il mio ah è bellissimo ho due tra l'altro colpa saluti morros non lo so non lo so non mi sembrava una buona cosa parole forti non mi sembrava una buona cosa qui Lonk ha messo una dura prova che tortura dai non so bene come per me questo è top 8 qualifier ricordiamolo si 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 top 8 qualifier torna da Napoli ragazzi hype bel gameplay dice Gabriele come smarted come smarted si si più o meno si dai si 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 questo ti fa capire che è facile vedi si si sono già facile oh Lucy se vinci pitch eh eh non pensi pure non so di a te è della mia scuola ah ok c'è proprio una scuola sei proprio il maestro rinascimentale perciò 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 si capisce dagli ice perciò nebbene se no 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 raw skill smart ed smart ed piange quando però serve per tenerlo controllati con gli end of che sennò questo qua ti rubo ah il noblin scusa non so i termini degli isis perderà questo basta per rubare no niente è andato oh incredibile angolo occhio occhio geek si esatto è stato un po' da geek niente 2 a 1 guarda guarda che bello niente da fare ok va benissimo cosa piccherà tiene tiene incredibile mi raccomando comprate il cerriello custom controller sponsor ufficiale del torneo di Napoli si 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 mi raccomando ragazzi best fob in the business cheapest tu e niente e così e così rimasi a guardare gli isis si ma funzionano solo su fd gli isis mi rifiuto di credere che vi indica questo video mi rifiuto di credere che long sia così lost c'era 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 di assomiglio un po' a mio padre non so ma ho capito quale il vibe il vibe ce l'ha il vibe ce l'ha proprio anche come buildato di capo diciamo no ah tipo quel vibe ha senso ha senso secondo me tu lo compri non lo so Gabriele ma lo facciamo con Marco io il mio non posso farlo fare felice l'ho fatto con Marco a casa sua ma anche di si 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 proprio di faccia si ho capito eh perchè senti ora ora ti senti in colpa ma dopo pensa a dire Milano Valpenso a tuo padre come piangerebbe nel sonno wey van wey come va? ah luci grande ha perso ha perso da isis su fd grande luci why counterpick dreamland eh i i it could work eh i mean i mean i mean i mean what is Fox counterpick in here? yeah isn't it dreamland eeehm not really no it's yoshi but i mean 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 in dreamland you outspit them by a lot with Fox Tu hai il più alto, quindi potrebbero uscire il Q, ma non così bene Sì, è esattamente quello che Marten dice Si conoscevano l'altro per un lungo tempo Si spaventano molto tra l'altro Quindi, fa sensazione che... E' un po' freddo di... Yoshi è il counterpick, ma devi avere le palle E' una buona sensazione Vabbè sì, ma vedete come giocano Non può prendere Yoshi Tra l'altro, Smart, fammi capire una cosa Secondo me in queste match-up Pure degli stage così lunghi, grandi Diciamo, non lo so, magari... Si, Pokémon Sono... Non un vero match-up, ma... Un po' scomodo per Realzis, vero? Non penso ci sia uno stage comodo contro Fox Sì, penso che... Cioè, ok, IFD... No, ma sì, però... Quelli che sono ancora più scomodi Ah, beh... Ah, beh... Quelli grandi, secondo me E' quello che intendevo io Cioè, più sono senza Platt, meglio, eh Eh, sì, infatti... Ciao, Gabriele, grazie per essere passati Un saluto Saluto, Milano Malpensa Ciao, ciao Uè, Mirko Ciao, Mirko Ah, Mirko Ah, Mirko Come va? Smarted come al solito ti cagavi, eh? Di perdere Eh, vi vado... Saluta Mirko Saluta Mirko Saluta Mirko che qua Mirko, top Martita ancora Nel 2023 Eh, vabbè Vabbè Di sotto Il misteriello fiadiello Di sotto